Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, assieme all'onorevole Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia, hanno incontrato, a margine di un'iniziativa a supporto della candidatura di Roberto Di Piazza, una delegazione di lavoratori della Varsila, con i quali hanno affrontato il tema dell'obbligo del Green Pass per l'accesso dei lavoratori dipendenti al loro luogo di lavoro. E' stata ribadita la netta contrarietà da parte di Fratelli d'Italia al documento, quando invece si potrebbero sviluppare, è stato ribadito, altre forme di prevenzione, come la sanificazione e l'aumento dei mezzi di trasporto pubblico, ma anche di cura, quali le cure domiciliari precoci. Rizzetto si è detto convinto che presto la stessa Corte Costituzionale aiuterà a fare chiarezza su tutti questi punti. Per quanto riguarda la campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Trieste, Rampelli si è detto fiducioso di una crescita importante del partito di Giorgia Meloni in città e più in generale in una crescita di tutto il centrodestra con la vittoria di Di Piazza.